In presenza di una pandemia e in un'ottica di tutela della salute pubblica, i test rapidi sono meglio del tampone molecolare. È un'affermazione netta quella che arriva da uno studio congiunto condotto da esperti delle università di Harvard, Oxford e Liverpool e pubblicata dalla rivista scientifica inglese The Lancet. Lo studio, che arriva in un periodo in cui il metodo adottato anche dal Veneto è stato messo in discussione, si fa forte anche della prova pratica di un progetto pilota di test rapidi a tappeto adottato a Liverpool e definito un buon piano in grado di bloccare il contagio. Nelle indagini di massa sulla popolazione il tampone rapido ha fatto la differenza, ha consentito di fare un'operazione di setaccio sulla popolazione enorme, non saremo mai riusciti a sviluppare centinaia di migliaia di tamponi così come li abbiamo fatto se non erano tamponi rapidi. E quindi togliere la popolazione che risultava positiva dal circuito, dalla possibilità di contagiare, è stata un'azione preziosa. Oltre ai controlli coi test rapidi, per evitare l'eventuale formarsi di nuovi focolai, la mossa decisiva è una campagna vaccinale che proprio in queste giornate sta viaggiando a pieno ritmo. L'appello che abbiamo fatto nei giorni scorsi agli over altri lo facciamo anche per gli over 50. Perché? Perché ci sono appunto i quarantenni che premono, hanno anche loro il diritto di essere vaccinati.